Ciao amiche, come state? Buona domenica a tutti, a tutte, a tutti i vostri bimbi, a tutte le vostre bimbe, famiglie e nun. Allora, devo dire che oggi, cioè stanotte, lei, Lucia, ci ha fatto dormire, quindi è stata molto brava, sì, brava mammina. Ha dormito più del solito e, vabbè, giustamente, cioè ci sono stati quei momenti che sono svegliata, però io oggi mi sento strariposatissima, anche se non è che io abbiamo, però molto più degli altri giorni, è solo che il fatto che mi tirano ancora questi punti mi dà un fastidio, però insomma, tempo al tempo, ecco, tocca fare solo questo. Allora, ho letto alcuni messaggi vostri, del giochino che vi siete scaricati anche voi e ve l'ho detto che era carino. Che cosa fate oggi? Io ho imparato nella vita, perché sono sempre stata così, non perché io abbia affrontato una perdita di una figlia, allora da lì sono cambiata, cioè che magari cambia anche dopo, per carità di Dio, meglio tardi che mai, si dice nella vita. Però io, come sapete, mi sono sempre mostrata con il sorriso e non mi sono mai fatta né hype né niente con le mie sofferenze, se magari qualora ci fosse stato, ci sono stati poi dei miei racconti e perché sono stata intervistata e quindi ho condiviso con tanti di voi, che comunque tanti possono passare la mia stessa situazione, i miei drammi nella vita, ma non mi sono mai fatta una vittima, perché io ho un altro carattere. Chiuso questa cosa, le persone che sono cattive o che sono frustrate e che sono sofferenti, io non le giudico, ma pretendo rispetto sicuramente, ma il giorno d'oggi non c'è. Se non ci fosse quello, almeno un contegno da parte di tutti voi, ma anche nella vostra vita in generale, voglio dire, non posso giustificare la cattiveria solo perché uno ha sofferto nella vita. Assolutamente no, perché chi è cattivo e chi è stronzo rimane stronzo, perché è proprio stronzo di natura. Chi ha sofferto veramente sa benissimo di non recare danno, di non recare lo stesso dolore a chi ha di fronte. Quindi io ho imparato questo da quando sono praticamente nata. Saggia la nostra selvaggia, io direi quello che ho detto anche ad altre persone, di lasciare perdere questi commenti stupidi che spesso arrivano da persone e sono solamente invidiose. Ricordiamo tutti che selvaggia ha avuto appunto la perdita di una bambina a tempo fa. Vi lascio così, ciao!